Addio sogni di gloria, finisce a Casal dei Pazzi l'avventura di Orvieto nei play-off e promozione. La scuola di Coccerici, dopo la sconfitta per 3-2 in gara 1 al Palavapini, a cui si riferiscono le immagini, doveva espugnare il campo avversario per giocarsi poi tutto in gara 3 davanti ai propri tifosi e invece arriva un'altra accocente delusione. Acuita dall'andamento del match, che vede le Rupesti portarsi avanti di un set 25-21, poi subire la freschezza e l'esuberanza di una squadra formata praticamente da quasi tutte under 18, trascinate da una super baccalora, autrice di 20 punti, 3-1 il finale a favore di Casal dei Pazzi con i seguenti parziali 28-26, 25-20 e 25-21. A nulla servono i 24 personali messi a segno in casa bianco-verde da Kotlar, miglior realizzatrice della sfida, va in archivio dunque un'altra stagione con Orvieto, che ancora una volta dovrà ripartire dalla B1.